La Mescuola Basket chiude la stagione con una vittoria di misura sul Basketball Club Lucca. Gli Amaranto si impongono infatti per 72-70 al termine di una gara combattuta. Partenza positiva dunque del quintetto di coach Evangelisti che si porta subito sull'8-0. La SBA continua ad accelerare e chiude il primo quarto sul 22-12. Ad inizio secondo parziale arriva il massimo vantaggio Amaranto sul 29-16 prima che punto su punto il quintetto di coach Tonfoni rientri decisamente in partita. Un parziale di 18-2 porta Lucca a riposo sul 38-33. Entrambi i coach hanno già utilizzato tutti i propri giocatori a disposizione nei primi 20 minuti di gioco con Arezzo che trova anche il canestro di Marco Calzini. Nella ripresa la gara è equilibrata, l'Amen ha il merito di recuperare l'inerzia della gara portandosi sul 46-44 al 25esimo. Nessuna delle due squadre riesce a scappare via, così solo il 5-55 del trentesimo al quinto minuto dalla fine è l'Arezzo a trovarsi avanti 66-62. Gli ospiti provano a ribaltare la gara ma pur con qualche difficoltà gli Amaranto riescono a tenere due punti di vantaggio che valgono il successo finale. La partita termina così 72-70 in favore dell'Amen che chiude così la seconda fase a quota al 10 punti. Meno male che è finita perché insomma soffrire così è una stagione, prendiamola così insomma, una stagione strana. Non si può poi fare le somme su questa, diciamo la parte tecnica è un po' difficile da fare valutazione. Adesso dobbiamo lavorare parecchio in questo periodo estivo sia dal punto di vista della ricostruzione di una nuova squadra, basandosi molto sui giovani, vediamo quello che riuscirà Marco Evangelisti a tirar fuori dal cilindro, faremo dei stage, vedremo qua dei ragazzi e prepareremo una squadra per la prossima stagione, vediamo un po' gli obiettivi ancora un po' presto. Grazie. Grazie.